I giovani si mettono in gioco per crearsi un'occupazione e il caso di Silvia, 27enne di Cervetri, che è un sogno che aveva da bambina, lo ha tramutato in realtà. Aprire un pastificio, una bottega Santa Marinella, conduzione familiare, un lavoro che la appassiona e la spinge a dare sempre il massimo. Sì, è un sogno che ho sin da quando ero bambina e quindi una scommessa un po' contro me stessa. Una scommessa che vuoi vincere però? Sicuramente. Impastamo, il nome della sua attività, ogni giorno crea delle pietanze in pasta variegate e per Natale ecco i consigli. Sì, abbiamo molte varietà di pietanze che spaziano da carne a pesce, dal cannellone al raviolo e pasta al forno. Con la carne che arriva direttamente dal posto? Sì, sono tutte carni del posto, macelleria sasso. Abbiamo seguito i procedimenti per la creazione dei ravioli. Sicuramente il tutto viene fatto a mano, dall'impasto alla preparazione della carne, in primis. La carne è buona, viene tutto quanto proprio buono. Ricordiamo che sia da Santa Marinella dove vi possono trovare i nostri telespettatori. A Santa Marinella, via Gabriele d'Annunzio 9A. A Santa Marinella, via Gabriele d'Annunzio 9A.